Buonasera cari amici, benvenuti a questi spazi dedicati agli approfondimenti, approfondimenti di stampo politico. In questa occasione abbiamo modo in questo ambito di conoscere e di approfondire alcune tematiche della campagna elettorale, sviscerati dai protagonisti, da coloro che si presentano in questa tornata amministrativa che ormai volge al termine, la campagna elettorale è nel pieno, nel vivo e quindi anche questa sera ospitiamo due graditi ospiti che li saluto subito, Cora Fattori benvenuta e Filippo Maria Borioni, ci vuole tutto Enrico, Maria, tutto un nome lunghissimo, benvenuto anche a te. Grazie. E allora fanno parte di una lista civica, sono tra i fondatori della lista civica nuova di Zecca Insieme e Meglio, che appunto appoggia la candidatura del sindaco uscente Massimo Seri e che ha espresso attraverso tutte le sue componenti, tutti i suoi affiliati, tante idee innovative soprattutto e questa è l'idea che volete dare. Insieme è meglio, non a caso si presentano anche insieme nelle trasmissioni e dopo capiremo anche perché, però avete voluto dare un apporto di idee importante, questo è quello che vi ha spinto entrambi, Cora iniziamo da te. Esatto, esatto, noi abbiamo in progetto di portare diverse idee concrete realizzabili per rinnovare la città, io sono ingegnere quindi per deformazione professionale dal mio punto di vista rinnovare la città è sempre, parte sempre dalla parte urbanistica, lavori pubblici e così via. Purtroppo Fano ha un'urbanistica con delle serie criticità dal punto di vista burocratico, dal punto di vista delle utilizzazioni bloccate, di costruzioni che vengono fatte intasando le opere di urbanizzazione della città. Faccio un esempio, adesso come adesso le uniche costruzioni che si possono realizzare sono la demolizione di una casetta unifamiliare, la realizzazione di sei appartamenti, questo mi va a caricare tantissimo quello che è tutte le urbanizzazioni, fognature, adduzione dell'acqua che fanno parte della città. Invece pensare a rinnovare la città significa anche pensare a discrezionalizzare bene quelle che sono le risorse per la città e in più pensare anche ad avere una visione. Da questo punto di vista abbiamo presentato subito un progetto che ha fatto discutere molto ma che devo dire chi l'ha ascoltato dalla nostra voce ha solo, dopo mille domande però ha solo che detto bene, questo ci fa piacere, che è il progetto riguardante la riqualificazione della ex caserma Paolini. È un progetto molto visionario ma allo stesso tempo realizzabile, ci vorrà una grossa volontà politica e una grossa volontà della città però questo è possibile, l'abbiamo presentato in maniera seria e competente e adesso non posso descriverlo nei dettagli però prevediamo la riqualificazione della piazza centrale con una realizzazione di un parcheggio interrato su due piani e questo permetterà di alleggerire molto il centro storico da eventuali macchine e parcheggi mal posizionati dando un servizio a quelli che sono gli abitanti e a quelli che sono gli esercenti. Allo stesso tempo al piano terra prevediamo una bellissima piazza polifunzionale che sia verde per le famiglie di respiro e allo stesso tempo essendo polifunzionale potrà ospitare all'occorrenza eventi ma anche diventare un parcheggio di supporto quando ad esempio abbiamo il carnevale o altri grossi manifestazioni e non solo, nel progetto della caserma noi avviamo subito quello che è un, facciamo subito un discorso di accessibilità perché prevediamo comunque delle navette che siano attrezzate per chi ha problemi di mobilità che possono essere disabili, mamme con bambini o anziani per portarli agilmente in tutte le parti del centro storico della città. Benissimo, Borioni lei è laureato in marketing, specializzazione nel marketing votato al turismo quindi insomma è a pieno titolo incentrato in queste tematiche però la sostenibilità e insomma la accessibilità della città è un tema che le sta molto caro. Sì esatto, diceva giustamente Cora è un aspetto che si deve tenere in considerazione sia dal punto di vista della progettazione della città e sia come obiettivo per lo sviluppo del turismo. Il mercato del turismo accessibile vale il 17% del mercato europeo quindi 350 miliardi di stima di fatturato e oltre ad essere un discorso di civiltà verso le persone che abitano il territorio si configura appunto come un ottimo mezzo di sviluppo del turismo. Sappiamo infatti che il tempo di permanenza nella località è più ampio, sappiamo benissimo che si preferiscono periodi di bassa stagione e quindi ecco ci sono una serie di misure da affrontare con una visione di lungo periodo per andare ad agire verso questo tipo di settore. Io come presidente degli operatori balneari delle Marche ho portato avanti in regione un bando che riguardasse proprio lo sviluppo dell'accessibilità per gli stabilimenti balneari perché credo fortemente in questo segmento, ho detto perché si parla di civiltà e si parla di mercato. Da questo punto di vista abbiamo affrontato anche un ragionamento con delle associazioni di settore che portano ad una mappatura di quelle che sono le barriere architettoniche presenti e future tramite anche il coinvolgimento degli istituti scolastici. Questo perché le barriere più forti da eliminare molte volte sono quelle mentali oltre che quelle architettoniche. Quindi abbiamo fatto anche un lavoro di carattere culturale portando ad esempio nelle sale un film che trattava di questi argomenti, molto emozionante, proprio perché alla base dello sviluppo strategico c'è anche quello mentale da parte degli operatori e da parte della cittadinanza. Quindi accessibilità, inclusione, non a caso voi nei vostri incontri pubblici avete portato un operatore che parla la lingua dei segni proprio per comunicare a coloro che ne hanno necessità questi concetti. Esatto, ci fa molto piacere, siamo stati i primi e al momento tra gli unici, tra i pochi, ad affrontare questo, a fare questo tipo di scelta e vedere in un periodo in cui il disinteresse di molti verso la politica porta invece tante persone a voler ascoltare il tuo messaggio solo se è presente questo piccolo tipo di aiuto, secondo me deve far molto riflettere. E dovrebbe essere non un'eccezione di cui due candidati si vantano, ma la prassi comune a tutti gli incontri. Quindi se si candiderà e arriverà in comune il suo impegno politico sarà proprio a riguardo di queste fasce deboli. Esattamente, perché poi si parla di accessibilità, si parla di turismo accessibile, ma è una misura omnicomprensiva, non pensiamo solo al disabile sulla sedia rotella, diceva benissimo Cora prima quello che riguarda la persona sulla sedia rotella riguarda la mamma col passeggino, parliamo di intolleranze alimentari, parliamo ecco di una più facile comunicazione per persone che hanno dei problemi che siano di carattere visivo, di carattere uditivo. Insomma, sono delle considerazioni da fare per dare a tutti le stesse possibilità di agire e di viaggiare nel caso del turismo accessibile. Naturalmente. Invece Cora Fattori su cosa si impegnerà? Quale sarà il Movens anche che l'ha spinta a questa scelta di scendere in campo? Allora, abbiamo parlato di città accessibile e sostenibile. La sostenibilità è fatta con criterio e con una scienza che ti guida, è sempre stata la mia missione anche sia nel lavoro come esperta in riqualificazioni energetiche e come organizzatrice della manifestazione aria. Insomma, è una cosa che mi è sempre stata a cuore. Adesso un altro punto su cui insistiamo molto è quello di rendere sostenibile il parco edilizio comunale tramite una riqualificazione energetica mirata e studiata di tutti gli immobili comunali. È difficile, ma neanche più di tanto, perché in realtà da anni sono presenti dei fondi pubblici, anche facili da ottenere perché sono a sportello, dei fondi pubblici che sono presenti sia per gli edifici privati che per gli edifici pubblici. Ora, per i privati io lo uso normalmente, però è previsto una minima percentuale. Per il pubblico è previsto un ventaglio di interventi finanziati molto ampio. Tra l'altro è qualche anno che faccio da stalker al Comune per convincerli a organizzarsi da questo punto di vista e sono contenta che il Sindaco adesso si sia impegnato per finalmente dare la svolta. Capisco che c'è stato tanto da fare finora, però ci sono i fondi, si può ottenere fino a 1.300.000 euro per immobile, fino a 500 euro a metro quadrato di finanziamento per le sole riqualificazioni energetiche degli immobili pubblici. In tutto questo la diagnosi energetica è gratuita perché è finanziata al 100%. Quello che dico io è ragioniamo facendo una progettazione seria per cui diagnosi energetica su tutti gli immobili pubblici, sappiamo cosa abbiamo sotto. Tra l'altro con edifici intelligenti per fano era già stato fatto e pagato un intervento importante da questo punto di vista. Quindi usiamo quella cosa, quello che è stato fatto di positivo e di buono e questo può portare, non è solo etico e giusto perché molte persone hanno detto beh ma se l'immobile pubblico è riqualificato a me cosa me ne viene? Beh che domanda è? Primo vivo in una città che è decisamente più, che è decisamente migliore, più etica ma poi chi li fa i lavori? Li fanno imprese che possono essere imprese del territorio, non solo, quando io riqualifico un immobile pubblico ottengo che l'immobile pubblico consuma meno, se consuma meno chi è che le paga le bollette? Le paghiamo tutti noi, quindi comunque sia è qualcosa che mi attiva un meccanismo positivo ed è facile da fare perché ci sono città che l'hanno già fatto da anni e noi ci possiamo attrezzare, ripeto è stato fatto tanto, noi siamo qui per rendere, per fare ancora di più. E questo è un po' il significato della vostra scesa in campo, cercare di aggiungere qualcosa in più a quello che già come substrato è stato creato, quindi diciamo innescare un volano positivo, un volano positivo che si innesca però anche facendo, lei essendo lavorato in marketing lo sa bene, una programmazione, una pianificazione, cioè nulla arriva così per caso. Esatto, è proprio vero, è stato infatti tra le nostre proposte c'è proprio quella di elaborare una visione strategica, una visione strategica di insieme come ha detto Core, una visione strategica per il turismo. È stato presentato il city brand con una, diciamo, iniziale segmentazione tra quelli che sono i vari prodotti, quindi la Fano Lidruviana e Fano Carnevale, Fano Città di Bambini, ma ancora, diciamo, deve essere strutturata da un punto di vista operativo, cioè andare a definire quelli che sono gli obiettivi di raggiungere, quelle che sono le metodologie e questo non solo per quello che è stato segmentato all'interno, ma per sviluppare, diciamo, un percorso dal punto di vista dello sviluppo del turismo. Si guarda spesso in questo mondo all'oggi per lo ieri, no? Neanche per il domani. Quindi vediamo che ormai essere un paese bellissimo, una città bellissima non basta più. Dobbiamo saper vendere il prodotto, dobbiamo sapere in che mercati inserirci, dobbiamo sapere come promuoverlo. Nel turismo non ci si può più improvvisare tale, non si può agire per sentito dire o per secondo me. Serve una definizione strategica del percorso da effettuare, all'interno del quale poi vengano coinvolti, diciamo, in un processo di comunicazione anche tutti gli operatori, tutti quelli che vengono, i portatori di interesse, chiamiamoli così, dobbiamo usare un linguaggio tecnico. Insomma, partire da un'analisi seria dei dati, come abbiamo affrontato nel convegno tematico che abbiamo organizzato sul turismo, alla presenza di due esperti internazionali del settore, partire da un'analisi dei dati perché ci dà quella che è la reale cognizione che hanno all'estero o in Italia, meglio, del nostro turismo e ad andare ad agire. Un lavoro che può essere affrontato, anzi che deve essere affrontato anche a livello di territorio, di insieme, perché il campanilismo lo vediamo solo noi ed è un grosso limite allo sviluppo della destinazione. Agire insieme al territorio porta una maggiore ricchezza di offerta, una maggiore ricchezza di prodotto, un'ottimizzazione dei costi e quindi una massimizzazione dei profitti. Manca un'identità fa, no? Turistica, secondo lei? Più che un'identità, manca il modo di svilupparla. Sappiamo in parte chi siamo, stiamo lavorando su quello, ho partecipato a tutti gli incontri promossi dall'assessorato al turismo sullo sviluppo del Brand Festival, quindi diciamo ci sono tante caratteristiche che sono state individuate ed è un bene perché rappresenta una ricchezza di contenuti. Però, come dicevo, una volta capiti chi si è, anzi in parallelo, si deve farlo percepire agli altri, si deve essere bravi nel comunicarlo e nel vendersi, perché è quello che ci ostacola al momento per generare una maggiore percentuale di arrivi. Città sostenibile, città inclusiva è una delle vostre priorità e come non parlare di un asse portante della nostra società, ovvero sia la famiglia, che da questo punto di vista ha bisogno di grossi supporti. Per le famiglie fanesi, ancora fattori, cosa vorrebbe fare? Allora, io di natura sono contraria alle iniziative puramente assistenzialistiche con finanziamenti di fine a se stessi. Sono neomamma perché ho una bimba che è piccolissima, un anno e mezzo, e ho vissuto in prima persona quella che è il nuovo arrivo. Devo ringraziare il mio compagno che mi ha sempre appoggiato in tutto e per tutto e mi ha permesso di continuare la mia attività da libera professionista e dandomi supporto e modo di avere i miei spazi. E non è da tutti. Devo ringraziare la mia famiglia, le nonne, i nonni che mi hanno aiutato tantissimo, però purtroppo non tutti hanno questa rete e non solo. Un'altra cosa di cui devo ringraziare è che in famiglia c'è un grosso dialogo. Ora, quello che noi vorremmo dare come servizio, vorremmo indicare come strada è quello di aiutare le famiglie a un dialogo interno perché è quello che poi rende la famiglia duratura. Perché quando c'è un nuovo arrivo e la coppia, non solo la coppia, la famiglia in generale è sottoposta a uno stress incredibile. Tutti hanno paura di sbagliare, di dire qualsiasi cosa e in più ci sono un sacco di iniziative in città come Fano, perché Fano è una città ricchissima dal punto di vista sociale di iniziative ma slegate tra loro. E molte volte dici, cavolo, se avessi saputo che c'era questa possibilità, questa assistenza, questo esame da fare, questa cosa, avrei potuto farne uso, avrei potuto trovare un aiuto. Ecco, quello che diciamo noi è, anzitutto, per fare una giusta economia della cosa pubblica, mettere in rete quello che già c'è e non dare finanziamenti fini a se stessi, se no anche ne ha realmente bisogno, quello per carità, e poi cercare di dare tramite professionisti del settore un aiuto al dialogo, che sembra una stupidaggine ma è questo quello che aiuta la famiglia a proseguire, ad andare avanti. Quindi un supporto non solo, diciamo, di tessuto sociale attorno ma anche proprio di supporto e sostegno psicologico, informativo, c'è tutta una serie di cose. Bravissimo, perché anche qui bisogna ragionare a 360 gradi, cioè bisogna fare una progettazione di tutto quello che c'è, ottimizzare le risorse e arrivare al risultato, altrimenti se faccio interventi che sono semplicemente di seminare le poche risorse che ci sono, io non faccio un reale servizio alla comunità e quindi mi ritrovo che magari usufruisce chi non ne ha bisogno di alcune cose, chi ne ha realmente bisogno, ha delle briciole che non lo aiutano ad andare avanti perché è così, invece cerchiamo di fare un lavoro sistematico, progettualità dappertutto, il progetto non si fa solo in edilizia, si fa nel turismo, il progetto si fa con le famiglie, il progetto è alla base di tutto, altrimenti parliamo e basta. Progettare ma conoscere anche, conoscere come diceva prima Corrafattori è importante perché se io so a che cosa vado in conto e di che cosa posso usufruire, ho fatto quasi metà dell'opera, questo si può coniugare anche nel turismo immagino, conoscere è un buon passo avanti. Sì esatto, uno dei problemi che affrontano di più le destinazioni è proprio quello della raccolta dati, del non essere efficienti nel reperire giuste informazioni, non parliamo solo di presenze, parliamo anche di abbiamo effettuato degli investimenti in un determinato territorio, ci aspettavamo quel ritorno, abbiamo visto che lavorano, abbiamo visto che hanno funzionato, quindi ecco un discorso che porta a mettere a sistema la raccolta dei dati, ad analizzarli e sulla base di quelle costruire le strategie future. A questo aspetto si ricollega infatti anche un'altra nostra proposta che è proprio quella della scheda di valutazione degli eventi, anche la concezione dell'evento deve essere vista in chiave strategica. quindi andare a raccogliere non solo quelli che sono i dati, quelli secondo la questura, sulle presenze, ma andare ad analizzare quella che è la copertura mediatica, dove è arrivato il nostro evento, perché l'evento non è solo intrattenimento ma è un progetto di comunicazione, deve essere portato avanti con criterio, deve essere selezionato con criterio e portato avanti da professionisti, proprio perché a quell'evento noi affidiamo anche la nostra immagine. Allora, su questi dati poi sarà più facile ottimizzare le risorse del comune di investire sugli eventi che premiano veramente la trasmissione efficiente dell'immagine della nostra città all'estero o a livello nazionale. Questo è un discorso molto importante, io non non mi soffermo sul dire quali siano o meno quelli che siano efficienti o no, proprio perché non abbiamo dati a tala misura, però lavorando a Senigallia vedo una certa differenza tra quelli che da noi sono considerati eventi che generano turismo rispetto a quelli che sono organizzati. Sì, Senigallia su questo ha insegnato molto e insegna molto perché con tre eventi, quattro eventi diciamo di rilevanza nazionale e internazionale basa tutta la sua... e lì insomma è importante capire non a pioggia ma io... Effettuare delle scelte, effettuare delle scelte, andare di investire su quelli che sono veramente gli eventi che vengono condotti in maniera professionale e che raggiungono determinati obiettivi. E che portano anche un ritorno in termini economici che tutto si muove. Ma Cora, fattore Filippo Borioni, perché nei volantini stanno insieme? Perché si divertono a fare le conferenze insieme? Cioè come mai avete scelto strategicamente questa cosa? Beh siamo bellini insieme! Su questo... su questo... su questo... belli, bravi, volenterosi sicuramente... e di belle speranze però insomma c'è anche una ragione, un costrutto su questo. Sì, allora anzitutto facciamo parte di una lista che si chiama Insieme Meglio quindi già dimostriamo che insieme si lavora meglio. Poi ci conosciamo da veramente tantissimi anni dal tempo del liceo, ci siamo ritrovati negli ultimi dieci anni a Fano perché ognuno ha preso le sue strade di formazione professionali e abbiamo ritrovato una bella amicizia, una bella affinità dal punto di vista delle idee, della progettazione, di quello che è la visione per la città. A volte ci scontriamo ma è sempre uno scontro costruttivo perché abbiamo la passione di far sempre meglio e quindi ho visto che ci completiamo molto a vicenda e questa è stata una delle motivazioni. Verissimo, razionalizzare anche poi la campagna. Beh sì, diciamo le campagne elettorali spesso devono affrontare delle spese, devono affrontare determinati argomenti e noi in questo modo abbiamo voluto oltre che ottimizzare il punto di vista delle spese ma abbiamo voluto proprio trasmettere questo messaggio di cui Cora parlava anche perché lei ha delle competenze che sono inerenti a determinate sfere e io in altre ed insieme costruiamo un bel progetto e possiamo riuscire a portare tematiche di ampio respiro che attraversano i settori dall'urbanistica allo sviluppo del turismo. In più, visto che comunque sia sulla scheda elettorale si possono esprimere due preferenze, a fatto che una maschile e una femminile, meglio se siano Cora Fattori e Filippo Borioni a questo punto. Della stessa lista. Della stessa lista. Cioè vi rendete la vita semplice. Esatto, facile. Gli dite già, perfetto. E poi anche dare il buon esempio, se ti proponi alla città come persona che ha un progetto che è multidisciplinare, che può essere in grado di razionalizzare certe risorse, già dimostri che lo stai facendo nel piccolo. Certo, quindi l'esempio pratico. Abbiamo visto che in molti ci stanno seguendo, quindi ci fa piacere aver dato il buon esempio. Il buon esempio, benissimo. Allora, tempo è tiranno ma abbiamo capito in questi minuti a nostra disposizione di che pasta sono fatti, insieme è meglio, lo dimostro oltre che sulla carta anche nei fatti. Cora Fattori, insomma, grazie per essere stata qui con noi. Filippo Borioni, grazie anche a lei. E questa era la proposta per la lista insieme per le prossime elezioni amministrative a giorni, a brevissimo. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ai prossimi approfondimenti. Arrivederci.